Anna Clara, Nicola e Giulia. Sono i nomi dei tre gemellini nati il 15 gennaio a 33 settimane di gestazione nel reparto di ostetricia e ginecologia universitaria al Policlinico Riuniti di Foggia e il secondo parto trigemino al Policlinico Riuniti dall'inizio della pandemia. I genitori, originari della Capitanata e residenti per motivi professionali a Toronto, hanno scelto di far nascere il loro pargole in Italia, a Foggia. Noi siamo originari di Troia, abbiamo lasciato l'Italia per il Canada circa dieci anni fa e questa volta quando abbiamo scoperto che la gravidanza si sarebbe rivelata un pochettino più speciale appunto con una trigemina, dopo l'estate abbiamo deciso di continuare le cure ginecologiche qui a Foggia perché abbiamo avuto contezza che il reparto era pronto e aveva molta esperienza su questi casi simili. Tutti mi hanno detto dormite ora che poi non dormirete, però l'adrenalina è tanta e quindi anche ora già non si dorme, non vediamo l'ora di riaverli a casa. Io li ho visti solo una volta all'uscita dalla sala parto, quindi ancora non li ho potuti né toccare né vedere puliti, però mi dicono che sono in ottime mani e quindi l'attesa continua ancora per qualche giorno.